C'è un ascensore che è sempre fuori uso per accedere a questo reparto, c'è solo un ascensore. Torna sotto i riflettori Villa Serena, una delle due strutture ISAC di Bassano. La denuncia, l'ennesima dopo che Rete Veneta ha iniziato a raccogliere le vostre testimonianze su quanto sta accadendo nelle case di riposo cittadine, arriva da una nostra affezionata telespettatrice che ci ha chiesto di restare anonima e che è una persona cara in cura in un reparto protetto, talmente protetto che adesso, causa ascensore fuori uso, è complicatissimo raggiungerlo. Se uno deve andarli a trovare, non c'è possibilità, devono chiamare sotto in portineria che qualcuno li venga a prendere. Avete fatto presente la cosa a chi lavora all'interno della casa di riposo? Ma tutti gliel'abbiamo detto e ci hanno riferito, potete fare voi perché noi non possiamo fare niente. E allora lei ha deciso di rivolgersi a Rete Veneta? Sì, però è una cosa che non può andare, ecco questo solo dico. C'è parecchia rabbia? Beh insomma mi dispiace. Questa situazione non può andare avanti così? No, no, perché forse un giorno o due, ma sono quasi due settimane che l'assensore è fuori uso. Avete sentito? Una situazione insostenibile. E chi si sta muovendo per trovare una soluzione? Non è certo compito del personale della casa di riposo, deve pensarci chi la dirige. Un guasto per carità può succedere, ma si deve ovviare prima possibile l'inconveniente, ricordando tra l'altro anche le rette che pagano puntualmente ogni mese gli ospiti e non sono briciole. Noi ci muoveremo subito perché il problema deve essere risolto al più presto.